tutto allora volevo fare i complimenti per il film e volevo sapere qual è stata la prima scintilla che ha fatto nascere però Ghiaccio qual è stato il primo momento in cui avete cominciato a costruire questo film è stato guarda avevo in testa di scrivere un film di questo genere con con la box che potesse fare da filo conduttore per raccontare la nostra storia già da diversi anni poi un giorno per un motivo o per un altro si rimandava sempre io ero spesso in tour Alessio era spesso sul set e ci vediamo poco un giorno io prima del mio concerto al forum da Sago di Milano sono andato a vedere gli incontri di box al palazzetto Allianz lì a Milano uno nuovo e ho visto Mirko Valentino combattere ho visto Mirko Valentino combattere ho visto questo ragazzo questo pugile che mi ha colpito molto ho voluto conoscerlo e quella sera lui ha fatto dodici round e era data di santa ragione all'avversario però ha perso ai punti quindi c'è stato una sorta di impiccio in quell'incontro un po' proprio come il Rocky 1 l'ho portato il gioco dopo al forum da Sago e l'ho presentato ai miei fan e ho visto la reazione dopo che ho raccontato questa storia della gente in sala che è stata clamorosa ho chiamato Alessio per il concerto e ho detto senti è arrivato il momento di scrivere questo film perché c'è anche il pugile che può fare da antagonista bellissimo sembra una storia nella storia sì al nostro protagonista Alessio ci è incuriosito ci siamo visti ho presentato Mirko abbiamo iniziato a scrivere questa sceneggiatura e poi in tempi record abbiamo messo su produzione, distribuzione, cast ecco esatto infatti con Alessio volevo parlare del cast perché oltre a Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni che veramente sono fantastici c'è anche tutto il coro intorno tra cui un grandissimo Mauro Cremonini come li avete scelti? e sono state le prime scelte Vinicio e Giacomo? guarda allora Vinicio e Giacomo ti direi di sì perché noi già in scrittura ci immaginavamo chi avrebbe potuto interpretare Massimo e Giorgio e li pensavamo pur non conoscendoli pur non conoscendoli personalmente poi gli abbiamo proposto il film e devo dire che hanno accettato mi piaccio e quindi è nato un bel rapporto immediatamente con loro cioè io sono felice di poterli definire amici cosa molto rara e col resto del cast guarda noi abbiamo fatto settimane interminabili di cast dove abbiamo voluto sempre essere in presenza dal primo dei ruoli più piccoli fino ai ruoli più importanti che ruotano intorno ai nostri due perché volevamo persone che fossero più vere possibili so che è una frase scontata fatta che la dicono tutti i registi però è stato davvero così tu hai citato Mauro e io ti racconto perché me lo ricordo perfettamente quando cercavamo Giovannone mi ricordo che a un certo punto noi avevamo fatto delle scelte fotografiche con la nostra casting Teresa Monaco e a un certo punto arriva in ufficio Mauro apre la porta noi lo guardiamo no ti sei scordato scusa che mi sei scordato ti sei scordato da parte più bella che io mi racconto Andrea cioè è andata veramente così scusa che ti interrompo però è troppo bella ma vai vai io sono legato a una e tu mi dai ragione vai noi siamo usciti mentre facciamo il casting per trovare Giovannone noi siamo usciti per fumare una sigaretta fuori dall'ufficio è vero dove avvenivano i casting c'era una fila di attori saranno stati la quindicina che dovevamo vedere ci siamo passati accanto per uscire fuori a fumare questa sigaretta e ci siamo incrociati con Mauro Cremonini che non conoscevate ci siamo no che sapevamo che sarebbe venuto però di persona non l'avevamo mai visto ci siamo guardati sì sì e abbiamo detto mandiamo tutti a casa perché lui è Giovannone infatti io sì sì assolutamente infatti stavo per dire che quando è entrato in ufficio ho aperto sta porta io poi l'ho visto lì sulla porta e lui subito sai con questa voce roga c'è un ragazzino così cioè era lui era già fantastico e mi piace ricordare anche a proposito del cast anche Claudio Camilli che fa Piscia Sotto che per noi è stato il ruolo più complicato di tutti noi avevamo chiuso tutti i ruoli ma ci mancava Piscia Sotto perché su quel ruolo lì inizialmente noi avremmo voluto nella testa c'avevamo dei nomi anche abbastanza importanti e Claudio ci ha fatto un provino che ci ha lasciato così e avevamo il problema che doveva essere più grande d'età perché Claudio è giovane Claudio c'ha 40 anni e quindi l'abbiamo voluto rivedere cercando di creare un look il capello lungo il codino una cicatrice abbiamo un po' rovinato un po' rovinato per dargli un po' più di credibilità perché era talmente bravo ha fatto un provino talmente forte che ti giuro eravamo proprio combattuti ed è andata così cioè Claudio il ruolo se l'è proprio preso è venuto a prenderselo è arrivato ha detto questa è roba mia levateve fate come volete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti